Benvenuto a tutti i follower di Teconair.it, oggi siamo nuovamente a Milano sempre durante il design week e siamo ospiti da Brion Vega che presenta un nuovo speaker bluetooth. Uno speaker bluetooth che punto soprattutto sul design rispecchia un po' la tradizione per quanto riguarda anche Brion Vega. Andiamo a vedere subito la scatola, vedete come la scatola è molto molto curata nel suo dettaglio. Andiamo ad aprire la scatola, ecco qui vedete subito lo speaker bluetooth che viene venduto in combo con queste borsette molto comode che possono essere sia la tracolla lunga che quella corta da donne diciamo per portarlo così in mano. Vedete infatti qui all'interno abbiamo questa cover, questa borsetta in cuoio, in pelle per se sia in cuoio quindi veramente molto molto bella da portare in giro. Abbiamo qui la varia manualistica per quanto riguarda la certificazione per quanto riguarda questo speaker bluetooth. Andiamo a vederlo più nello specifico, ecco qui mettiamo un secondo da parte la la scatola eccolo qui speaker bluetooth devo dire con l'ingresso usb per andare a inserire la nostra chiavetta e ascoltare la musica direttamente da un supporto usb la possibilità addirittura che fa che faccia da power bank quindi possiamo andare a ricaricare il nostro smartphone e qui l'ingresso a tre mezzo per le cuffie quindi per andare a inserire un cavo aux che ci permette appunto di ascoltare la musica da una fonte esterna. Questo è il fronte della dello speaker devo dire molto bello da vedere devo dire anche tutto sommato leggero ottimo il design e qui abbiamo i vari bottoni per alzare a basso del volume rispondere a una telefonata e qui abbiamo il tasto d'accensione andandolo a tenere premuto si accenderà in questo caso questo led blu che va andare a fare la connessione bluetooth con il nostro smartphone. Proviamo l'audio di questo Vionvega di questo Vionvega Vionvega, quindi devo dire che l'audio è veramente molto molto buono molto alto e ho scelto una canzone molto potente di Motolent quindi appunto per sentire la potenza di questo speaker bluetooth e devo dire che è veramente molto molto alto non c'è praticamente distorsione della musica a meno che appunto non si va ad alzare parecchio il volume però veramente insomma un ottimo prodotto che ripeto cercheremo di avere in prova magari per test magari più approfonditi quindi ragazzi per il momento è tutto io vi saluto dalla design week da bionvega un saluto da shido per teconair.it a